Ora sentirai una storia in italiano di livello intermedio. Sarai in grado di rispondere correttamente a tutte le domande? Ciao, sono Mattia di Lingua Franca e nel video di oggi testerò la tua capacità di ascolto in italiano. Ti leggerò un testo per due volte di seguito e poi ci sarà qualche domanda per testare la tua capacità di comprensione. Prendi carta e penna e iniziamo subito! Il weekend agrodolce di Marzia. Marzia aveva sempre desiderato visitare Verona, la città degli innamorati piena di storia e di fascino. Finalmente, un fine settimana di primavera, decise di organizzare una gita con le sue amiche Silvia e Roberta. Prepararono i bagagli con entusiasmo e partirono di buon mattino. La prima tappa fu l'Arena, un antico anfiteatro romano situato nel cuore della città. Furono affascinate dalle imponenti mura e dalle architetture storiche. Successivamente si diressero alla famosa casa di Giulietta. Marzia, appassionata di letteratura, era emozionatissima all'idea di toccare il balcone dal quale, secondo la leggenda, Giulietta ascoltava il suo amato Romeo. Il pomeriggio, invece, si rivelò meno piacevole. Mentre gustavano un gelato in Piazza delle Erbe, Marzia si accorse che la sua borsa, in cui teneva il portafogli e il cellulare, era sparita. Allarmate, si precipitarono in stazione per sporgere denuncia alla polizia. La giornata si concluse quindi in un commissariato, anziché in un ristorante tipico come avevano previsto. Nonostante il contrattempo, Marzia e le sue amiche non si persero d'animo. Decidendo di non lasciare che l'incidente rovinasse il loro weekend, il giorno dopo visitarono il suggestivo Castelvecchio e il suo museo. Nonostante tutto, riuscirono a godere della bellezza di Verona, promettendo a loro stesse di ritornare. Fantastico! Ora rileggerò tutto il testo e, se vuoi, puoi anche prendere appunti. Poi arriveranno le domande. Il weekend agrodolce di Marzia Marzia aveva sempre desiderato visitare Verona, la città degli innamorati piena di storia e di fascino. Finalmente, un fine settimana di primavera, decise di organizzare una gita con le sue amiche, Silvia e Roberta. Prepararono i bagagli con entusiasmo e partirono di buon mattino. La prima tappa fu l'Arena, un antico anfiteatro romano situato nel cuore della città. Furono affascinate dalle imponenti mura e dalle architetture storiche. Successivamente si diressero alla famosa casa di Giulietta. Marzia, appassionata di letteratura, era emozionatissima all'idea di toccare il balcone dal quale, secondo la leggenda, Giulietta ascoltava il suo amato Romeo. Il pomeriggio, invece, si rivelò meno piacevole. Mentre gustavano un gelato in Piazza delle Erbe, Marzia si accorse che la sua borsa, in cui teneva il portafogli e il cellulare, era sparita. Allarmate, si precipitarono in stazione per sporgere denuncia alla polizia. La giornata si concluse quindi in un commissariato, anziché in un ristorante tipico come avevano previsto. Nonostante il contrattempo, Marzia e le sue amiche non si persero d'animo. Decidendo di non lasciare che l'incidente rovinasse il loro weekend, il giorno dopo visitarono il suggestivo Castelvecchio e il suo museo. Nonostante tutto, riuscirono a godere della bellezza di Verona, promettendo a loro stesse di ritornare. Iniziamo con le domande. Avrai dieci secondi di tempo per rispondere a ogni domanda. La risposta giusta è B. Le amiche di Marzia si chiamano Silvia e Roberta. La risposta giusta è la B. L'arena visitata dalle ragazze è l'arena di Verona. 3. Cosa è sparito dalla borsa di Marzia a secondo la storia? L'ombrello e il cellulare. Il portafogli e il cellulare. Il diario e il cellulare. Il rossetto e il cellulare. La risposta giusta è la B. Dalla borsa di Marzia sono spariti i portafogli e cellulare. 4. Dove avevano inizialmente previsto di trascorrere la serata? In un ristorante tipico? Al cinema, in discoteca o a teatro? 5. Dove avevano inizialmente previsto di trascorrere la serata? La risposta giusta è la A. Avevano previsto di trascorrere la serata in un ristorante tipico. 5. Nonostante l'incidente, cosa hanno fatto Marzia e le sue amiche il giorno successivo? Hanno deciso di tornare a casa? Hanno visitato Castelvecchio e il suo museo? Hanno trascorso la giornata nel commissariato? Hanno passato la giornata in hotel? La risposta giusta è la B. Nonostante l'incidente, Marzia e le sue amiche il giorno successivo hanno visitato Castelvecchio e il suo museo. 6. Per quale motivo Marzia desiderava visitare Verona? Per la sua fama di città moderna? Perché era la città degli innamorati e piena di storie e fascino? Perché voleva fare shopping? Perché aveva parenti lì? La risposta giusta è la B. Marzia desiderava visitare Verona perché era la città degli innamorati e piena di storia e fascino. 7. Qual era la seconda tappa del loro viaggio dopo aver visitato l'arena? Castelvecchio, Piazza delle Erbe, la Casa di Giulietta, il Museo di Verona? 8. La risposta giusta è la C. La seconda tappa del loro viaggio dopo aver visitato l'arena di Verona era la Casa di Giulietta. 8. Perché Marzia era particolarmente emozionata alla Casa di Giulietta? Perché voleva comprare souvenir? Perché era appassionata di letteratura e voleva toccare il balcone legato alla storia di Giulietta e Romeo? Perché voleva incontrare Romeo? Perché era un luogo di cui aveva sentito parlare ma non aveva mai visto? La risposta giusta è la B. Perché era appassionata di letteratura e voleva toccare il balcone legato alla storia di Giulietta e Romeo. 9. Dove si sono recate Marzia e le sue amiche dopo aver notato la sparizione della borsa? In un ristorante per cenare? Al Museo di Verona. In stazione per sporgere denuncia alla polizia. In hotel per riposarsi. La risposta giusta è la C. Dopo aver notato la sparizione della borsa, Marzia e le sue amiche si sono recate in stazione per sporgere denuncia alla polizia. 10. Che promessa hanno fatto Marzia e le sue amiche alla fine del loro viaggio? Di non tornare mai più a Verona. Di visitare Roma la prossima volta. Di ritornare a Verona. Di non viaggiare più insieme. La risposta giusta è la C. Marzia e le sue amiche hanno promesso di ritornare a Verona. Ed eccoci alla fine del test. Fammi sapere in un commento a questo video quanti punti hai fatto. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticarti di mettere mi piace e iscriverti al canale. E poi, qui, trovi tanti altri test sulla lingua italiana.